200.000 piedi 200.000 piedi 50.000 piedi Un dito! Che si è toccato? Ragazzi qui ci sono oggetti che sembrano di pelle Sembrano delle uova Asher, cosa hanno trovato? Il reddito di un astronave Cosa lo capisci? Questa trasmissione è incomprensibile Sì, il video non si vede bene Ma si sono fatti delle foto Ma cos'è questa roba? Forse era un navigatore Wow ragazzi! Un uomo! Si è aperto! Asher, non è un estueste E nemmeno una richiesta di aiuto Sembra essere una minaccia Wow! Il relobio! Mi scusi Non mi avete il relobio? Mangi come se fosse l'ultima cena È grave Stendetelo Che non mi avete ormai cose buona Ander in Jersey Che fosse l'ultima sizing Che fosse lì?